Cerca sempre di lanciare prodotti fulgiti del settore giovanile. Sì, ai miei tempi c'erano De Rossi, Aquilani e quindi... Dentro ancora per Coffi, prova a direzionare il pallone all'arco dove spinge Simonti, il traversone che arriva, lì in mezzo subito! La risposta del Polardi porta avanti il pallone, lo allarca ancora sulla corsia di sinistra dove è pronto Nigro, può andare a traversone, Semeraro in mezzo, stai cui! Poi non ci arrivano i due e c'è calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma per l'intervento irregolare dentro l'area di rigore di Lovisa, il penalty per la Roma dopo pochissimi minuti di gioco perplesso. Lovisa cerca di avere chiarimenti dall'arbitro che ha visto che qualcosa non andava dentro l'area di rigore, rivediamo il traversone dalla sinistra di Semeraro, pallone lì in mezzo, ci va Sdaegui e poi prova a girare anche Bove e il fallo è commesso proprio sul numero 7, anzi no, il fallo è commesso su Sdaegui, vanno praticamente ad ostacolarsi i giocatori con il punto di pattuta contro il portiere Chiorra, parte con il destro, spiazza il portiere Alessio Riccardi, 1-0 Roma e fa 10 in classifica Cannonieri, Riccardi 10 come il suo numero di maglia, 1-0 giallorosso. Grande rigore, spiazzato il portiere, c'è da premiare per l'azione che hanno fatto sul rivolgimento anche del terzino che ha dato ampiezza, è andato al cross, quello che aveva fatto prima la Fiorentina ha avuto la parata del portiere, qui invece è stato il fallo del difensore, ha creato questa situazione da gioco di rigore, ha favorito la Roma. Distende la Fiorentina, traversone che può arrivare, eccolo qui, in mezzo, ci va ancora, colpo di testa Coffi, va a volo D'Angelo e poi Montane, 1-0 Roma, Bianco, strappa il pallone, pallone dentro, Belocova in porta, ancora una volta, Cardinali decisivo. Vuole che la Fiorentina può mettere in difficoltà e quindi non ha abbassato la guardia, la Fiorentina deve metterci qualcosa in più sull'intensità per cercare di creare qualche spazio in più. Possibilità per Semeraro che fa al cross, in mezzo, taglia Felipe Estrela a Galeazzi, da grande attaccante e firma così il 2-0 della Roma, grande giocata di Galeazzi, Felipe che va a tagliare sul primo palo, tocca quel tanto che basta per mettere in rete, gol numero 6 in campionato per il brasiliano, 2-0 Roma. Grande gol, grande anticipo sul primo palo, grande cross a raso terra per tagliare la difesa, vedete l'azione è fatta molto bene, Semeraro si libera e mette una gran palla sul primo palo dove arriva Estrela e anticipa il difensore del portiere e fa gol. Grandissimo gol per l'attacco alla porta. Grande giocata sull'asse d'Orazio Semeraro, il cross di... Gennaro Nigro, allora calcio di punizione già battuto da parte della Fiorentina che fa circolare il pallone a destra con l'iniziativa di Pierozzi. Pallone in mezzo e arriva il colpo di testa sotto misura ed il gol della Fiorentina, arriva la rete della Fiorentina con il 2-1, la rete della Viola con il nuovo entrato se non sbaglio, allora il pallone che è finito proprio in rete per il 2-1. Rivediamo il cross dalla destra puntuale nell'inserimento credo Agostinelli per il gol dell'ex tra l'altro. Tutto pronto, parte dunque Agostinelli con il destro sulla barriera, non è finita, ci prova Pierozzi, pallone che resta lì, Pierozzi e poi la chiusura in due tempi della Roma con Parodi che si carica a mille sotto porta con l'inserimento di Pierozzi sotto misura, grande chance per la Fiorentina, fondamentale Parodi sulla linea di porta ad allontanare, un gol fatto dalla Viola praticamente. Rivediamo ancora qui con Niccolò Pierozzi che si ritrova il pallone, poi la chiusura di Parodi che taglia subtralmente, lo mette fuori da difesa della Roma, fischietto in bocca per l'arbitro, è game over, a tre Fontane, vince la Roma 2-1 sulla Fiorentina, sale così a quota 30 punti in classifica. Io ringrazio Amedeo Mangoni, grazie Amedeo. Grazie a voi. Alla prossima, grazie a tutti voi dell'attenzione, un saluto da parte di Gabriele Schiavi e alla prossima occasione.